Dalla sera di lunedì 14 dicembre fino alla mattinata di giovedì 17, gli impianti di distribuzione carburanti in rete ordinaria e su viabilità autostradale saranno chiusi per sciopero. Lo hanno annunciato tramite un comunicato congiunto Faibe Confesercenti, FIGISC, Anisa Confcommercio e Fegica CISL che hanno specificato che la decisione si è resa necessaria in conseguenza della inspiegabile indisponibilità del governo ad inserire le piccole e piccolissime imprese di gestione a cui sono affidati gli impianti nel novero delle categorie che beneficiano dei provvedimenti di sostegno inseriti nei diversi decreti ristori. Per tornare a sciare bisognerà aspettare il prossimo 7 gennaio, questo quanto stabilito dall'ultimo DPCM con le linee guida da seguire durante le festività. Niente settimana bianca dunque nel mezzo delle vacanze di Natale. Fino a quella data gli impianti potranno essere utilizzati solo da atleti professionisti e per gare sportive. A partire dal 7 gennaio 2021 saranno aperti agli sciatori amatoriali, solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della conferenza delle regioni e delle province autonome e validate dal comitato tecnico-scientifico rivolte a evitare aggregazioni di persone e in genere assembramenti. Il Censis ha pubblicato il suo 54esimo rapporto annuale che quest'anno sembra fotografare una società stanca e sfiduciata. Tra i dati più significativi e evidenziati dal report, in vista del Natale e del Capodanno, il 79,8% degli italiani chiede di non allentare le restrizioni o di inaspirle. Il 90,2% della popolazione è convinto che l'emergenza coronavirus e il lockdown abbiano danneggiato maggiormente le persone più vulnerabili, ampliando le disuguaglianze sociali già esistenti, e il 44,8% degli italiani è convinto che usciremo peggiori dalla pandemia, mentre solo il 20,5% crede che questa esperienza ci renderà migliori. Secondo il Centro Studi e Investimenti Sociali, il sistema Italia è una ruota quadrata che non gira, avanza a fatica, suddividendo ogni rotazione in quattro unità con un disumano sforzo per ogni quarto di giro compiuto. E mai lo si era visto così bene come durante quest'anno eccezionale, sotto i colpi dell'epidemia. Le app di contact tracing sono diffuse in tutto il mondo, ma secondo un aggiornamento del monitoraggio avviato dalla rivista del Massachusetts Institute of Technology, alcune sono più trasparenti e invadenti di altre. Sono i risultati del report partito lo scorso maggio, che ha preso in esame una cinquantina di app, classificandole in base a diversi criteri. In fondo alla graduatoria si trovano Singapore, che ha reso obbligatorio il download dell'app, India abbia asimata per la mancanza di trasparenza riguardo il trattamento dei dati e la progettazione del software, e Filippine, il cui governo ha deciso di conservare i dati degli utenti a tempo indeterminato. Tra le nazioni più virtuose invece ci sono Germania, Francia e Gran Bretagna, che hanno adottato nuove policy che impediscono la condivisione dei dati. Bene anche l'Italia, che con l'app Immuni risulta essere uno dei paesi più trasparenti. Grazie a tutti.